Il sindaco d'Imperia Claudio Scaiola, che per primo aveva proposto la realizzazione di una nuova conduttura del Roia dal capoluogo al Dianese, ospite negli studi di Imperia TV, si è detto favorevole al commissariamento dell'ambito idrico provinciale. Scaiola imputa infatti alla provincia d'Imperia diverse mancanze proprio sul fronte idrico, a cominciare dal fatto di aver lasciato la concessione a Riviera Acqua, nonostante la stessa società pubblica abbia ampiamente dimostrato la sua inefficienza nel corso del tempo. Il sindaco Scaiola ha anche annunciato di aver nuovamente diffidato proprio Riviera Acqua per il cattivo funzionamento del depuratore di Imperia, che continua ad emettere miasmi nauseabondi. Lo stesso sindaco del capoluogo aveva già inviato due diffide alla società pubblica, sempre per il depuratore, ottenendo che lo stesso fosse rimesso in funzione, ma ora è tornato alla carica, contestando i difetti dell'impianto non ancora risolti all'origine dei cattivi odori patiti, soprattutto dai residenti della zona ferriere.